bella bestia, grazie, volevi dire la stessa cosa ma è uno scooter perché ho optato per il comfort io, ma ti dico fai sempre il tempo a cambiare non prendere questa che è scomodissima, ciao ciao questo forse non avrei dovuto farlo che piccolo ciao, grazie mille ciao buongiorno ciao non so se era incuriosito o spaventato, la mamma è incuriosita e il bambino è spaventata ah e ora le mail le carichiamo qua, tutte qua, tutte le voglio zia però ti devi buttare, esatto così le fermi e passo anch'io oh cos'è stato sto rumore, non veniva dalla mia moto vero? ma non ti conviene brutto rottameo darmi sti problemi, è presto hai solo 2.600 chilometri ma quando hai fatto tutti sti chilometri? inserire banco note eh un attimo, che ansia digitare il codice sulla tastiera operazione in corso attendere prego estrarre la carta selezionare le robature sullo schermo ma in che senso? digitare il codice sulla tastiera operazione in corso attendere prego estrarre la carta selezionare le robature sullo schermo riformirsi un attimo, ti prego un attimo che ansia sta vita inserire banco note basta, io ho già dato lasciatemi in pace ah 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 quindi dopo fai quella faccina e poi tu sono un po' amiglio assi si beh prodotto destro che se te senti senti con il nora, con l'osso una mano togli, senti? eh, ormai mi sono messo i guanti prova prova No, ma è rosso, zio! Ma no! Che bel gesto, buongiorno, sentivo la vostra mancanza, i signori forse non sanno che il casco va allacciato stretto per bene, buongiorno stampiamo due multe oggi, che piccoli! Mi raccomando, fai il video quando porto a 200 minuti, oltre 200, perchè ci vengono Chi dei due si sposta? Ehi, 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 per favore! Che ignorante! Fa quella fascetta lì? Mmm! Sono sicuro che non dovrebbe essere lì! Ma questo dov'è cacchio vuole fare retromaccio? Pure la portiera mi apri! Porco diiii! Dio! Ah! Così! Ma la signora sta usando il telefono, o sbaglio? Sì, sta usando il telefono! E io qua non ci sto! No, non ci posso! No dai, non mi stringere! Non mi stringere! Non mi stringere! Ma sei stronzo, ma falla salire! questi erano i sensori di prossimità grazie anche la tua bella what the fuck perché c'è un raduno di trattori ma che cazzo c'è qua attento capo posto di blocco bellissimo punto per fare un bel posto di blocco ma dite che ci sto sarebbe un pelo millimetrico ci passo grazie mi ha beccato un po' male ma la ricordavo diversa cenerentola coddio ma piazzio in teoria io potrei superare no si perché no io sono dentro la linea venite a dirmi qualcosa ho anche il filmato della gopro voglio ben vedere signora in bici io non lo voglio travolgere non voglio neanche darle è un po' confusa la zia ma davvero hanno fatto l'incidente? ah no voglio solo fare la multa sto male ciao bro guarda questo dove fa manovra ciao ma c'è un cavallo ma in che senso? ma che è sto bordello? ciao 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 ciao